You need to grammar. Vediamo i contenuti grammaticali dell'unità 2 dove approfondiamo il presente indicativo del verbo essere. Abbiamo studiato prima la forma affermativa I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Vediamo adesso la forma interrogativa, cioè quella che si usa per fare delle domande, la forma negativa, quella che si usa per negare le cose. Bene, la forma interrogativa è molto semplice perché basta, come anche nella lingua francese, se l'hai già fatta, invertire l'ordine tra il pronome personale soggetto e la voce del verbo essere. I am diventa am I, you are diventa are you, he is diventa is he, she is diventa is she, it is diventa is it, we are diventa are we, you are come prima diventa are you, they are diventa are they. Quindi am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Il significato è lo stesso che nella forma affermativa, cioè io sono, tu sei, egli è, lei è, eccetera, però viene utilizzato nelle frasi con significato di domanda. Forma negativa invece è quella che si usa per negare le cose. I am, io sono, I am not, io non sono, you are, tu sei, you are not, tu non sei. Come vedete basta aggiungere un not dopo la forma affermativa. I am diventa I am not, you are, you are not, he is, he is not, she is, she is not, it is, it is not, we are, we are not, you are, you are not, they are, they are not. Ok? Quindi, forma interrogativa si parte dalla forma affermativa e si fa l'inversione tra soggetto e verbo. Forma negativa si prende la forma affermativa e si aggiunge in fondo il not. Molto semplice per il verbo essere. Ok? Vediamo la forma affermativa contratta, cioè un altro modo di scrivere I am, you are, he is, she is, it is, eccetera, però abbreviato, accorciato e si usa molto nel parlato. I am diventa I'm, cade là e al suo posto arriva un'apostrofo. You are diventa your, anche qua cade là. Invece nella terza persona singolare, he is, she is, it is, quello che cade è la I e al suo posto compare sempre un'apostrofo. His, she is, it's. Invece nelle ultime tre persone cade nuovamente la A. We are diventa where, you are diventa your, they are diventa their. Quindi leggiamolo. I'm, you're, he is, she is, it's, where you're there. Bene, poi abbiamo le risposte brevi, affermative negative, ma prima di leggere questo schema vediamo cos'è la risposta breve, short answer in inglese. In inglese non è possibile come in italiano rispondere semplicemente sì o no a una domanda. È necessario rispondere in una maniera un po' più complessa e come si forma la risposta ve lo scrivo qua. Ci vuole inizio, yes o no a seconda se la risposta vuole essere affermativa o negativa. Poi basta mettere una semplice virgola, poi si mette il soggetto, I, you, he, she, it, eccetera, oppure può anche essere un nome di persona, Mario, Tom, Katia. Poi ci vuole il verbo essere e per la risposta affermativa finisce qui. Per le risposte negative metteremo anche un not. Vediamo nei casi concreti che è più semplice a farsi che non a dirsi. Se mi chiedono Are you Italian? Io voglio dire di sì, ma in inglese non posso dire semplicemente yes. Devo dire yes, I am, cioè dopo dico anche il verbo essere. Se voglio dire di no, che non sono in italiano, dico no, I am not. Quindi il verbo essere ma la forma negativa. Is she a teacher? Yes, she is. Se voglio dire che lei è un'insegnante. Se voglio dire di no, no, she is not. Poi questo qua che diventa is lasciamo per ora perdere. Ok? Quindi yes oppure no, virgola e poi il presente indicativo del verbo essere. Aggiungiamo il not se è negativa la risposta. Are you happy? Siete felici voi? Yes, we are. No, we are not. Are they friends? Loro sono amici. Yes, they are. Quindi le prendo sempre il soggetto e poi metto il verbo essere. No, they are not. Se voglio dire di no, in fondo aggiungo anche il not. Ok? Abbastanza chiaro? Torniamo a questo schema. risposte breve affermative. Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Quelle negative invece aggiungiamo il not. No, no, I am not. No, you are not. No, he is not. No, she is not. No, it is not. No, we are not. No, you are not. No, they are not. Però molte volte, soprattutto nel parlato, si dice una cosa ancora più breve. Si fa la forma contratta, come l'hanno vista per il presente, che I am diventa I am, you are diventa your, la stessa cosa si fa nella forma, nelle short answers, alla forma negativa. Anziché dire no, I am not, si contrae no, I am not. Anziché I am not, I am not. No, you are not in questo caso, invece per tutte le altre persone, la prima persona singolare fa eccezione e si contrae il verbo essere con il pronome personale soggetto. Invece nelle altre sono il not e il verbo essere che si contraggono. no, you aren't, questo aren't che si scrive an, si pronuncia aren't e vedete che are not si scrivono tutto attaccato e scompare la o, sostituita l'apostrofo. No, he is not diventa no, he isn't. He is not si scrivono tutti attaccati, scompare la o, al suo posto ci viene l'apostrofo. Stessa cosa anche per gli altri. No, she isn't, no, it isn't, no, we aren't, no, you aren't, no, they aren't. Vedete che quindi a parte la prima persona dove si contrae, si confondono, si fondono il verbo essere col pronome, la M del verbo essere e il pronome personale soggetto, cade la prima lettera del verbo essere al suo posto l'apostrofo, in tutte le altre persone invece la contrazione, quello che viene combinato, sono il verbo essere il not. Are not diventa and, is not diventa isn't, che si ripetono tutti e due per tre persone isn't e quattro persone aren't. Leggiamolo tutta una volta sola. Le risposte brevi, affermativa, yes I am, yes you are, yes he is, yes she is, yes it is, yes we are, yes you are, yes they are. Risposte brevi negative, no I'm not, no you are not, no he is not, no she is not, no it is not, no we are not, no you are not, no they are not. Forma negativa, contratta, no I'm not, no you aren't, no he isn't, no she isn't, no it isn't, no you aren't, no you aren't, no they aren't. Quindi questo l'abbiamo visto e speriamo anche capito. Altro argomento, i pronomi dimostrativi, gli aggettivi dimostrativi. Questo, anzi in questo caso sono sia pronomi, possono essere sia pronomi che aggettivi non cambia niente. Tanto voi poi in italiano non avete ancora fatto l'estensione forse tra pronomi e aggettivi. L'avete fatto elementare ma li prenderete bene più avanti. Allora, in significato, this, questo, questa, that, quello, quella. La differenza tra questo e quello in italiano, spero che la sappiate. Questo è vicino a chi parla e chi ascolta, quello è lontano rispetto a chi parla e ascolta. Al plurale this fa this, si pronuncia esattamente nella stessa maniera, però si scrive diversamente, ok? E that al plurale fa those, quindi this scritto così vuol dire questi, queste, those scritto così, in questa maniera vuol dire quelli, quelle. Vediamo qualche frase. What's this? Che cos'è questo? It's a book, è un libro. Evidentemente se uso this vuol dire che è vicino a chi parla e chi ascolta. What's that? Che cos'è quello? It's an apple, è una mela. E se uso that vuol dire che è lontano rispetto a chi parla e chi ascolta. What are these? Cosa sono questi? They are DVDs, sono dei DVD. Se ho usato this vuol dire che sono vicini a chi parla e chi ascolta. What are those? Che cosa sono quelli là? They are hex, sono delle uova. Ultimo argomento, question words. Who, what, where, when, how old. Who vuol dire chi, what vuol dire che cosa, where vuol dire dove, when vuol dire quando, how old, quanti anni. Sono tutte parole che vanno utilizzate per fare le domande. Who is he? Chi è lui? What's your name? Come ti chiami? Where are they? Dove sono loro? When is the concert? Quando c'è il concerto? How old are you? Quanti anni hai? Sono da studiare.